Buongiorno, da Andrea Ressandro. Buongiorno. Stamattina sono le 5 qualcosa e l'obiettivo è andare a fare 4 lancia spinning e per infidiare dei barracuda. La situazione, nonostante ci troviamo a maggio, è abbastanza fredda, è un po' uggiosa, quindi vediamo insomma. Le intenzioni sono le migliori. Con un po' di vento anche, però ci proviamo. Noi abbiamo avuto qualche attacco di pesce perso. Niente di che però. Vediamo cosa succede cambiando punti. Magari ci va bene. Vediamo. Speriamo. 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 Speriamo.